Prima di iniziare la conferenza stampa, consentitemi di parlare a nome di tutti i presenti e stringere in un abbraccio i colleghi Paola Di Caro e Luca Valdiserri e la figlia Daria. In questo momento stanno celebrando i funerali del loro figlio Francesco e volevo che gli arrivasse da parte nostra, la nostra vicinanza e il nostro affetto. Allora io inizierei con le domande che Infront ci propone con la selezione di diverse decine di testate internazionali e che quindi dai microfoni di Lazio Style Channel partono da Luigi. Buongiorno mister, l'anno scorso alla decima giornata avevate già subito 17 gol, quest'anno siete a 5, come è riuscito a cambiare così tanto la difesa? Bisogna sempre aspettare, queste sono statistiche che hanno un senso nel lungo periodo, hanno meno senso nel breve periodo, quindi 10 partite può dipendere da mille fattori. Vediamo, a noi ci farebbe molto comodo continuare su questo livello, però sappiamo che non è certo che questo sia il numero giusto per noi, ce lo dirà solamente una statistica fatta sul lungo periodo e su tante partite. In questo avvio di campionato la Lazio ha dato l'impressione di poter lottare per qualcosa di importante, lo scontro diretto con l'Atalanta può indirizzare questa stagione? È una partita importante sicuramente, è una partita che ci può condizionare lo sviluppo della stagione sicuramente, però che sia una partita determinante a otto mesi alla fine del campionato mi sembra eccessivo, però è una partita importante, ci può dare, lasciando da parte l'aspetto materiale, ma dal punto di vista mentale ci può dare o togliere, questa è in dubbio. Buongiorno mister, le volevo chiedere com'è la situazione generale e soprattutto se ha... Giovanni Lacagnina, sì. Diamo sempre testata il nome. Grazie. Giovanni Lacagnina, calcio d'autore. Le volevo chiedere com'è la situazione generale e se ha già pensato al sostituto di Ciro Immobile, quanto pesa l'assenza domani? Grazie. L'assenza di giocatori hanno certi numeri, è sempre un'assenza pesante, ma questo non è che succede a noi, succede a tutte le squadre, hanno dei giocatori così impattanti. Se il Paris Saint-Germain, nonostante le spese sul mercato e senza Mbappé, è un po' preoccupato, se il Barcellone è senza Lewandowski è un po' preoccupato, quindi sono giocatori, hanno numeri così impattanti che è chiaro che il rischio di perdere parte del potenziale c'è, però l'anno scorso noi nelle prime due assenze di Ciro abbiamo sofferto molto, nel finale di Ampionato siamo riusciti a venirne fuori lo stesso, come gli idea giocatori è inutile far finta di niente, ci manca un giocatore importante e vuol dire che bisogna dare il 5% in più ognuno di noi. Ci ha pensato? Ma esatto, ci ho pensato, noi è un attaccante con caratteristiche simili, non l'abbiamo, quindi dobbiamo andare su caratteristiche diverse, l'anno scorso ci hanno provato Pedro e Felipe e quest'anno ci riproveranno e ci proverà anche il cancellieri, visto che abbiamo da già le 7 partite in 20 giorni. Salve Minister Daniele Rocca, il tempo, io le volevo chiedere della gestione di Immobile, tornando indietro, pensando alle sue condizioni con la nazionale, ci sono tre giocatori che hanno giocato più di lui, quindi... Eh no, appunto, le chiedo, tornando indietro a quella settimana, alla partita con lo Spezia e a quelle che sono venute dopo, cambierebbe qualcosa a livello di scelte di come l'ha gestito? Se fossi sicuro che si fa male, lo sarebbe fuori, ma lui quella settimana aveva solo un piccolo acciacca a ginocchio della gamba, dell'altra gamba, a livello muscolare, non aveva dato nessun tipo di segnale e poi ti ho detto, noi abbiamo tre giocatori che hanno più minuti di lui in campo, perché poi noi si guarda i minuti che fanno in campionato, ma ci sono dei giocatori che hanno fatto gli stessi minuti solo in campionato e due partite in più nazionali, quindi sì, si dovrebbero far male in tanti, poi io ando via di Barcellona, Lewandowski l'ho sempre visto in campo e ci sono certi giocatori che può avere la rosa e vuoi, ma il 90% dei minuti disponibili gli gioano lo stesso, quindi è inutile farsi tante masturbazioni mentali e te lo vedo, non c'è da tirare fuori tutti noi, è qualcosa in più, basta. Salve mister Carlo Roscito, la Lazio siamo noi, il Corriere del Sport, proprio su quest'ultimo aspetto, il tirare fuori qualcosa di più, la Lazio per il momento è il secondo attacco del campionato, la migliore difesa, ci sono margini di miglioramento ulteriori o abbiamo visto comunque l'espressione massima per quello che dicono i numeri, visto che non ci sarà immobile, se gli altri possono fare ancora meglio rispetto a quello che abbiamo visto finora? Guardi, il mio obiettivo è l'utopia e questo mi serve per avere un sottofondo di giramento costante che mi richiede ostante miglioramento, quindi se mi accoggesse abbiamo tirato fuori il 100% delle nostre potenzialità, domattina faccio la valigia e vado a casa. Buon pomeriggio mister, Alessandro Vittori, Football Magazine, la Lazio siamo noi.it, l'anno scorso specialmente, in parte anche quest'anno, la Lazio ha sofferto a volte le squadre che giocano uomo contro uomo, che fanno ritmi molto alti, con una sola eccezione, la partita di Bergamo dell'anno scorso, dove la Lazio venne ripresa alla fine, forse avrebbe meritato anche una vittoria... senza Ciro le nostre aratteristie diventano ancora più di palleggio e meno di ricerca della profondità e quindi pensare a qualcosa alternativo, se ti vengono uomo contro uomo, è mettere la palla lunga e con quelli abbiamo noi davanti in questo momento, se si mette la palla lunga penso ce ne tocchino veramente poche, quindi bisogna migliorare l'espressione di quello che vogliamo fare noi, avere il coraggio di uscire puliti, perché te l'ho detto, il calcio italiano è in piano rigurgito, ormai vanno tutti uomo contro uomo, o non tutti chiaramente, però ci sono tante squadre che fanno questo, la Cremonese ha fatto questo, lo Spezia ha fatto questo, il Verona ha fatto questo, noi non siamo andati in grande difficoltà, poi trovano le squadre di livello più alte che fanno questo e può andare in difficoltà, è chiaro, però parlare dell'Atalanta solo per il livello di aggressività mi sembra molto riduttivo, l'Atalanta è una squadra forte, è una squadra forte e ha delle qualità tecniche enormi, poi in certe zone di campo è anche bella, tosta, aggressiva, ma l'Atalanta è un pallone fra i piedi, gioca un calcio raffinato, non gioca, un calcio, quindi è periodosa per questo, per quest'anno stanno facendo qualcosa di diverso, perché in questo momento hanno degli attaccanti con caratteristiche diverse e quindi secondo me fa bene Gasperino a farlo e fa, ma è una squadra di una periodosità unica, ma io me lo immaginavo fin dall'inizio dell'anno, le squadre Gasperini se hanno la possibilità di allenarsi tutta la settimana sono un problema grosso. Mister Bumpo Moreggio, Andrea Iustro nel Lazio Press, mancherà Immobile, nella sua testa qual è la gerarchia dei rigoristi senza Ciro Immobile? Il primo che deve andare sui dischetti è chi se la sente, io tante gerarchie in questo momento non le voglio fare, perché puoi dare la responsabilità a un giocatore in quel momento e lì non se la sente, però non hai coraggio di dirlo all'allenatore, quindi si fanno tre o quattro nomi e fra quei tre o quattro va chi se la sente, è chiaro che se Ciro è in campo essendo un animale e si nutre di gol è giusto e va da lui. Volevo chiederle innanzitutto se oltre a Pedro, Felipe Anderson e Cancellieri ha pensato anche a qualcun altro in caso di necessità, ultima spiaggia per il Tridente lì davanti al posto di Ciro e poi lo scorso anno con l'Atalanta il ritorno fu una partita difficile, una Lazio che si vedeva doveva trovare ancora la quadra, ora è cresciuta in tante cose la sua squadra, anche la loro, e qual è la cosa che a lei sta piacendo di più in questa crescita? Mi sta piacendo il fatto che la squadra sta cominciando a dimostrare che è molto più capace dell'anno scorso da affrontare e superare le difficoltà e questo è un punto di partenza, o meglio detto io durante la settimana, l'anno scorso la partita con l'Udinese l'avremmo persa, però l'obiettivo non è questo, l'obiettivo è che fra due mesi bisogna essere in grado di vincere, ma può fare il nome, ti riferisci a Milinkovic, ma il rischio di fare il doppio danno è grosso. Mister, ma eccomi Giulio Cardone Repubblica, mister ma perché Felipe Anderson più di Pedro falso 9 e poi... Perché Felipe ha una soluzione in più, a Pedro da andare in profondità non glielo puoi mai chiedere, per caratteristiche, per gamba, per modo di giocare, Pedro ti andrà sempre incontro e vorrà la palla fra piedi e con un livello di aggressività così alto avere la palla fra piedi e spalla alla porta è perioloso. Felipe ha anche lui questa tendenza, però Felipe ci alterna anche al movimento negli spazi, quindi con squadre di così forte riferimento uomo contro uomo e che accettano spesso i tre contro tre dietro penso sia una soluzione un po' più... Poi c'è sempre detto che insomma serve tempo per cancellieri, per insegnare, per addestrare cancellieri in un ruolo che non era il suo, a che punto è? E poi un'ultima cosa, abbiamo capito che c'è un ballottaggio in difesa tra Casale e Patrick, volevo capire se scegli in base anche alle caratteristiche degli avversari perché abbiamo visto Casale... Allora se li vedo tutti sullo stesso livello d'efficacia scelgo in base alle caratteristiche degli avversari, se in una determinata settimana uno mi sembra in condizione superiore rispetto dall'altro scelgo su quello... Cancellieri... Cancellieri ha delle qualità, mi sembra stia migliorando molto quando riceve spalla alla porta nell'andare a giocare di sponda senza incaponirsi, negli spazi può avere una gamba interessante e gli manca ancora chiaramente l'attacco della porta, l'attacco dell'aria, se vi ricordate l'ultima partita, l'ultimo secondo di gioco, Cancellieri fa una sponda di testa e noi si riesce a sboccare e andare al cross e Cancellieri ancora non è arrivato Nari e ci arriva Vecino e era a partito 10 metri più basso di lui e quindi gli manca è ancora questa... avere nella testa i gol, però in certe cose è già migliorato molto. Buongiorno, Stefano Ceri, Gazzetta dello Sport. Visto che abbiamo fatto praticamente tutti i nomi come ipotesi di vice immobile, vorrei chiedere anche di Romero, mi dirà che è ancora giovane, presto, ma come caratteristiche potrebbe farlo anche lui il falso nuove? Romero è più simile a Pedro, è un giocatore rapidissimo ma non velocissimo, cioè è rapidissimo negli spazi stretti ma non ha grandi accelerate, non ha grandi attacchi negli spazi, quindi lo vedo in un'evoluzione futura, è un giocatore più simile a Pedro e non a Felipe. Vuoi chiedere un'altra cosa, tornando all'Atalanta, secondo lei è da Scudetto la squadra di Gasperini? Ma sai, le squadre di Gasperini, ti ho detto prima, hanno la possibilità di allenarsi in continuità, diventano dei rulli oppressori, è poi una squadra che ha qualità. I parchi attaccanti che ha l'Atalanta ce l'hanno poi in Italia, perché questi con Zapata fuori hanno Malinowski in panchina, hanno il ragazzo che viene dallo Sturm che è un altro giocatore forte e quindi questo Lukman è un giocatore di livello, un ragazzo che ha una gamba devastante, Muriel ha una qualità tecnica enorme e quindi sono una squadra che viene etichettata spesso insomma una squadra aggressiva, in realtà è anche una squadra di grande qualità, in questo momento si allenano e le squadre di Gasperini quando si allenano diventano rulli oppressori. Ministro Buon pomeriggio, Paolo Cericola Radio Radio, fino adesso abbiamo argomentato sul discorso Immobile però mi interessava sapere la chiave psicologica, cioè è vero che Immobile già in precedenza ha saltato delle partite, però è la prima volta nel suo percorso alla Lazio in sei anni, fino adesso ne ha saltate in tutto 32 che è costretto a saltarne sette. Allora le volevo chiedere, i dati sanitarici, vedremo, magari riuscirete a metterlo in campo prima, però diciamo che oggi sulla carta le dovrebbe saltare tutte sette, poi vedremo. C'è anche una chiave psicologica in questa partita, cioè per la squadra averlo davanti e non averlo? Se la squadra va in difficoltà per questo è una squadra mentalmente non matura, in Milan sei mesi fa meno di Ibrahimovic, se no si va a rincorrere sempre alibi, se la squadra è matura, la squadra è matura, può mancare il volo, si va dentro, si fa la partita e poi si gioca dentro una squadra forte, puoi vincere, puoi perdere, ma perdere per immaturità non mi piacerebbe molto, sinceramente. Buonasera, Rindone Corriere dello Sport, mi stuzzica la smorfia che ha fatto prima riferita immobile, ma spera davvero di poterlo recuperare prima? Sarà fatto un tentativo? Stiamo facendo tutti i tentativi possibili, il ragazzo l'ho visto bello deciso, tosto a voler accorciare un po' i tempi, poi è chiaro che i tempi si possono accorciare se non c'è margine di rischio, però ho visto il piano terapeutico e è bello tosto, è di uno che si è messo a disposizione per cercare di rioperare un po' prima.